E' una meraviglia, un bagno bellissimo, l'acqua è trasparente come quest'estate. Un bagno di settembre ad hoc. Settembre non fa proprio rima con ferie, ma i motivi per gustarsi il mare in questo mese, potendolo fare e potendolo scegliere come periodo vacanziero, sono innumerevoli. Innanzitutto il crollo dei prezzi e delle tariffe, la maggior tranquillità di spiagge e località turistiche e le temperature, meno da calincola ferragostana, e la leggera brezza di questo periodo rende il tutto più gradevole. Anche per le spiagge del nostro litolare questo va-de-mecom rimane valido e i frequentatori non mancano di certo. Com'è il mare a settembre? Si sta benissimo, una meraviglia, ho approfittato per portare l'ultimo giorno i figli, le ultime due ore perché oggi lavoro, bene, veramente bene. Si, effettivamente iniziamo ad aprile, finiamo a settembre, ottobre, quando è insomma. Sono fascino in tutte le stagioni, in tutte le maniere, calmo, mosso, col tempo bello e il tempo brutto. Sempre, sempre, vengo sempre a settembre perché è bellissimo. Allora, qual è il fascino del mare in questo periodo? Guarda, in questo periodo il mare è bellissimo perché è bello trasparente, non c'è molta gente, per cui l'acqua non è torbida, come avviene in agosto o in luglio. Comunque poi c'è un'area che è fantastica, veramente. Comunque è bella che è così, la spiaggia, quasi vuota, è bella. Ha il suo fascino. Quindi, diciamo, questo periodo è un bel periodo? È un bel periodo, è un bel periodo. È bellissimo, durasse così. Avete l'invidia di migliaia di persone in questo momento, lo sapete? Sì, beh, questo senza dubbio. Ora hanno ripreso a lavorare, noi siamo in pensione, quindi abbiamo questa possibilità di sfruttare al massimo questo bel periodo. Però ci godiamo queste giornate che sono meravigliose. Rubate un po' di tempo al sole. Sì, sì, sì. Belle passeggiate. Sì, sì, si sta bene, dai, tranquillo. Si sta bene. Va bene, apprezziamo, finché dura, dai, tranquillo. Che cosa state giocando? A Burraco. A Burraco, i giochi dell'estate. È benissimo, sì. Perché si sta bene al mare adesso? Certo che si sta bene, anzi, dobbiamo approfittare per l'inverno. Per l'inverno, rubate un po' di spazio all'inverno, approfittando. È approfittando. Bene. Chi sta vincendo? È ancora, sì, ma è all'inizio. Siete all'inizio? Sì. Va bene, allora non vi disturbo, eh. No, grazie, gentile, grazie. Ci figuri, buon gioco. Quest'anno l'acqua è stata veramente eccezionale e adesso, a settembre, ci sta regalando veramente delle giornate di mare eccezionali, proprio perché l'acqua è trasparente e soprattutto chi ama nuotare lo sfrutta minuto per minuto. La chiusura ha la sua bellezza lo stesso, quindi non è che va bene. Io sarei contento che stagione durasse 12 mesi all'anno, però purtroppo non si può. L'estate sta finendo, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo.